Musica Bello a tutti guaglioni e ben ritrovati nel mio canale Oggi ragazzi come state sicuramente vedendo ci troviamo su un nuovo gioco Si tratta ragazzi di Ghost Recon Wildlands Un gioco davvero fantastico Lo state già vedendo state ammirando il paesaggio ragazzi assolutamente mozzafiato Ragazzi aspettavo questo gioco davvero da un millennio Volevo giocarlo e volevo giocarlo soprattutto con voi Quindi ragazzi colgo l'occasione per iniziare una nuova campagna in difficoltà estrema Ragazzi ho questo gioco da poche ore non ci ho mai giocato Soltanto il tempo di cambiare qualche impostazione video e audio Per far sì che mi vediate e mi sentiate nel miglior modo possibile Beh ragazzi ho voluto iniziare questa campagna in questa difficoltà ardua Quindi estrema proprio perché voglio immergermi nel miglior modo possibile All'interno del gioco e nella sua tatticità Ragazzi porterò questo gioco soprattutto perché il genere mi piace davvero tanto 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 Si tratta di un gioco dove il fattore stealth è molto importante E io sono davvero innamorato dello stealth Quindi ragazzi vi ho tagliato la prima intro L'intro del prologo poiché è una rottura di maroni E l'avrete vista già in altri gameplay In altri diciamo canali Beh ragazzi quindi questa è la missione principale La prima missione del gioco da quanto vedo E dovremmo trovare il tenente del Santa Blanca Da quanto ho capito dalla intro principale ragazzi Santa Blanca sono dei cattivoni che ci romperanno le palle dall'inizio fino alla fine del gioco Allora ragazzi da questi primi secondi di gioco vedo che i comandi dei veicoli sono un po' sordi L'auto non gira molto velocemente e tende un po' a slittare Però bene o male si riesce a guidare in maniera abbastanza agevole Non mi aspetto diciamo di più da un gioco che è comunque incentrato sul tatticismo Quindi sulla guerra quindi va bene così Non mi aspetto un gioco ovviamente simulativo come un Project Cars o un Forza Motorsport Quindi ragazzi vediamo cosa ci dicono Ok va bene non ho capito assolutamente niente Allora ora scendo ragazzi perché siamo comunque arrivati nel primo obiettivo Che ci propone il gioco e vi farò vedere un po' il mio personaggio Ragazzi l'ho fatto cazzutissimo Guardate che figo con questi occhiali Questa maschera che copre il naso e la bocca Questo elmetto ragazzi davvero davvero figo Gli ho messo una t-shirt molto semplice Dei pantaloni tattici Degli stivali da trekking E questo zainetto molto molto carino a parer mio E ho voluto metterci ragazzi questa mimetica che fa davvero da duri Una mimetica urbana anche se di urbano non c'è assolutamente niente Ma è tutto Forza vabbè Piccolo errore ma non fa niente Ok ragazzi vediamo ci propone il gioco un piccolo tutorial Ovvero la ricognizione Premiamo LT per puntare e marcare i nemici Con la freccia in alto usiamo il drone Con la freccia in basso usiamo il binocolo Allora ragazzi da quanto vedo Allora ho una pistola perché ho una pistola Voglio il fucile primario Ok Allora quindi da quanto ho capito ragazzi Si può marcare il nemico Ecco lo vediamo Diciamo come in Far Cry Da quel che mi ricordo Allora ragazzi ci hanno consigliato di mettere il silenziatore Io già lo vedo il silenziatore E così ho visto che si può Modificare la visuale della mira dell'arma Quindi puntare con il mirino vero e proprio O puntare in terza persona dalla spalla Ragazzi io preferisco questo Poiché questo mirino non mi fa vedere assolutamente niente E si muove troppo Quindi ragazzi io userò per lo più Magari fino a quando non mi comprerò un'ottica Questa visuale Allora ragazzi queste missioni Almeno le prime E vedremo anche le prossime Di farle in stealth Come vi dicevo lo stealth è un fattore che mi piace tantissimo E quindi sono davvero affascinato Colpo sincronizzato lo conosco già Poiché l'ho visto in altri gameplay Ragazzi potremmo praticamente Marcare i nemici e premere A Per avviare un colpo sincronizzato Ovvero dove la nostra squadra ci aiuterà Vabbè la nostra squadra che non è per niente dietro di noi Non ci caga minimamente Vabbè continuiamo noi perché non abbiamo bisogno di altri Altri aiuti Poiché siamo dei pro No vabbè scherzo Ovviamente sono veramente una schiappa in questi giochi Allora ragazzi ci sono due nemici Qua si dovrebbe usare la sincronizzazione Ma noi facciamo di testa nostra E li uccidiamo Vediamo in un modo semplice Oh ragazzi vediamo se Possiamo Marcarli Ok Vabbè acquisizione del bersaglio Ok attacco pronto Quindi ragazzi se si sta un po' fermo il tizio là in fondo Posso anche ucciderlo Allora stati fermo per favore Oppure ti sparo al tronco Ok L'ho sparato al tronco Ok ucciso ragazzi Molto Molto semplice Qui troviamo una cassa Che cos'è questa cosa? Ah un barile Ah praticamente sono delle risorse Vediamo un po' che cos'è Benzina più 250 Ma è buono praticamente Ok Abbiamo trovato delle risorse Continuiamo ad andare avanti Qui c'è un'altra cassa E vedo un altro nemico però Segniamolo ragazzi Allora Io direi di usare un drone Ok ci si può anche sdragliare ma Non è molto l'ideale sdragliarsi in quel punto Allora ragazzi Mandiamo un nostro drone per Perquisire la zona Poiché ragazzi Mi piace molto Tenere sotto controllo Una zona precisa Della mappa Quindi dove andrò Praticamente A operare Quindi ragazzi Vedo tre miei nemici E l'obiettivo Quindi dovrebbe essere il tenente Del Santa Blanca Di questa organizzazione criminale Allora ragazzi Quindi vedo il primo nemico qua Io direi di ucciderlo Perfetto Ottimo colpo ragazzi Ottimo colpo davvero Ok Ci troviamo a 100 metri dal bersaglio Però vedo un altro nemico Ragazzi Io Fare in questo modo Invece di interrogare subito Il Il tenente Dovrei uccidere Quell'altro nemico Vedo un edificio Ci sono anche delle scale Vediamo se Potremmo Uccidere Quel 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 nemico Da questa posizione Sopraelevata Non vedo Allora vediamo se Ci sdraiamo E lo possiamo prendere Non vedo la testa Ma vedo il torace Potremmo spararlo al torace E con un colpo Comunque se ne va Abbastanza giù Perfetto Un colpo c'è bastato Io ne ho sparati due Per sicurezza Allora ragazzi Dovremmo interrogare Quel Quel tizio là Vediamo Di scendere In maniera Rapida E in dolore Ragazzi Per la prima volta Sto usando Il controller Elite Dell'Xbox Se farò qualche Cazzata Colpa delle levette Che sono A dir poco Scomode Oh Ci ha visto Ma noi Lo cogliamo Veramente Alla sprovvista Interroghiamolo Vediamo cosa ci dice Beh siamo abbastanza Amichevoli Da quanto vedo Che cosa vuoi A Maru Dove lo trovo Stai scherzando Tutto per questo Ma si E alla Toyo Farm Va pure Così vedi cosa facciamo A chi si mette contro di noi A quelli come te Vabbè Ci siamo incazzati Gli abbiamo dato Una bella pistola In testa Allora Da quanto ho capito Dovremmo liberare Maru Un checkpoint Missione Vediamo Che cosa Ci aspetterà Alla Tollo Farm Avevo capito Che si trovava Il Diciamo Dovrebbe essere Un nostro amico Dovremmo liberarlo Quindi Ciò fa pensare Che è un alleato Un chilometro in l'omere All'obiettivo Però Vedo già Qualche Ragazzi Sono molto svegli Nemici Da quanto vedo Allora ragazzi Io direi Di far volare Il nostro drone Attenzione Che mi si stanno staccando Tutte le levette Del controller Fantastiche Queste levette Sono veramente Molto molto fighe Però sono un po' scomodi Da usare Per il primo periodo Mi dovrò un po' abituare Allora ragazzi Stanno tutti qua Io non vedo Il modo Di Ucciderli Diciamo Uno per uno Sono un po' tutti Ravvicinati Ed è un po' difficile Allora ragazzi Io direi Di Marcarne Uno Vediamo Ne abbiamo Marcato uno Attenzione 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 Ne abbiamo Marcati No Non l'abbiamo Marcato Questo qua Allora Vediamo ragazzi C'è uno Che si sta Staccando dal gruppo Lo vedo E lo posso Sparare Perfetto Sparato Attenzione Hanno visto Il corpo Cosa Abbastanza Brutta Quindi ragazzi Cerchiamo di Cercare di Riprenderci La situazione Vediamo un po' Ragazzi Allora Vediamo 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 Dovrebbero stare Praticamente Qui sotto Ah ragazzi Non riusciamo A prenderlo Peccato No Non trapassano Diciamo I colpi Questa Gratinata Ok Ragazzi Perfetto Col primo Ci siamo E anche Col secondo Perfetto 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 Ok I nostri compagni Hanno ucciso L'altro Quindi Ce lo siamo Tolti davanti Vedo Della Delle risorse Quindi Andiamo A Perquisirle Vediamo Che cosa Ci danno Perfetto Vediamo Un po' Comunicazioni Più 50 Comunicazioni Che dovrebbero Servire A controllare Un po' Di più Il territorio Mi farebbe Pensare Ma Non Non sono sicuro Posso dire Anche una stronzata Pacchetti di cibo Perfetto Allora Ragazzi La vedo Un segno Praticamente Di armi Di munizioni Quindi ciò Fa pensare Che ci siano Dei rifornimenti Ok Perfetto Ci sono proprio qua No 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 Sali Perché deve salire Sopra Ah dotazione Ragazzi Si può anche Cambiare la propria dotazione Vediamo un po' Cosa Cosa ci propone Non ci propone niente Poiché siamo delle schiappe Ancora Ok Quindi ragazzi Siamo al completo Di munizioni E andiamo Avanti Per la nostra strada Oh Mamma mia Ragazzo Stai attento Allora ragazzi Ho visto questo Pick up Vediamo un po' Di prenderlo E di farci Questo Questi due chilometri Con la nostra squadra Che diciamo Nell'ultimo frangente E' stata leggermente utile Il nostro amico Che ha sparato Al tizio E invece di eliminarne Soltanto Con le nostre mani Tre nemici Ne abbiamo eliminati Soltanto due Quindi ci hanno dato A diciamo Una mano Notevole Ok ragazzi Quindi raggiungiamo Questo Questo obiettivo Nel minor tempo possibile Poiché il viaggio Comunque E' un po' scocciante Da vedere Quindi ragazzi Per questa Io vorrei creare Una miniserie Su questo gioco Creare Finire Con voi La La campagna Ovviamente ragazzi Voi dovrete scrivermi Nei commenti Se continuare Questa serie O meno Vorrei farci Quindi Come vi stavo dicendo Una piccola serie Veramente innocua Con degli episodi Che possono Variare La loro durata Può variare Dai 15 Ai 20 minuti Ma anche Praticamente Se ci troviamo Di fronte A una missione Complicata Che ci porta via Molto tempo Potrebbe Sfociare Anche in 25 minuti Il video Quindi ragazzi Stiamo a vedere Diciamo che cosa Ci propone Il gioco Che missioni E la difficoltà Di queste Di questi obiettivi Che ci propone Il Questo fantastico gioco Allora ragazzi Noi ci troviamo Praticamente A pochi metri Dall'obiettivo Ci facciamo Almeno altri 200 metri Con il veicolo Poi lo lasciamo Per cercare Di Di creare Anche Questo Questo fattore Stealth Di usarlo E presente In questo gioco Quindi noi Lo usiamo Nella maniera Migliore possibile Allora ragazzi Siamo in una posizione Abbastanza Favorevole Dovremmo liberare Il nostro Amico Quindi Amaru Quindi ci saranno Per forza Dei nemici Ne abbiamo Già spottato Uno Allora Vediamo Di spottarne altri Ragazzi Vediamo questo Tutorial Furtività Quindi ragazzi Lo stavo già usando Prima del tempo Allora ragazzi Io direi di lanciare Il nostro Odone Per vedere Un po' La situazione Allora Ne ho già spottati Due Uno non so come L'altro L'ho visto E Qua ragazzi C'è la comitiva Qui E che cosa Vediamo Ne trovo un altro Ah no Questo non sta A ventapasseri Vabbè L'avevo scambiato Per una persona Lasciamo perdere Allora ragazzi Vedo Soltanto Questi nemici Allora Dentro Aiaiaia Ci stiamo allontanando Troppo Infatti ragazzi Possiamo vedere Sia la batteria Del drone Che Diciamo La portata Del drone Quindi Quanto possa andare Lontano Questo drone Allora ragazzi Vedo questo nemico Abbastanza isolato Io direi Di Spararlo E Togliercene Già uno Però Ne vedo un altro Che è ancora più isolato Quindi ragazzi Io direi Di incominciare Da questo qui Proprio Vediamo un po' Perfetto 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 Questi colpi Ragazzi L'headshot Oh 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 Ce n'è un altro Ragazzi lì Io direi Di eliminare Prima quello lì Perché C'è questo più vicino Che si trova Alle spalle No Si sta allontanando Quindi ragazzi Cerchiamo di Beccare questo qua Che si sta Bellissimo Questo colpo Mentre si abbassava Bellissimo Questo colpo Mentre si abbassava Ragazzi Vi stavo dicendo Che l'headshot In questo gioco Da quanto visto Appaga Appaga e non poco Allora ragazzi C'è quest'altro Nemico qui Vediamo di Ucciderlo Allora E un po' Una rottura Di scatola Il muretto Perfetto Uccidiamo Anche quest'altro Nemico Che si trova qua Ah questo Si muove molto Oh 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 Attenzione Un altro nemico Ragazzi Mamma mia Ragazzi Non l'avevo visto Questo qui Minimamente Ok ragazzi L'abbiamo ucciso Con un po' Più di colpi Rispetto al normale Ok Cerchiamo di Fare Le cose In maniera Molto Molto Semplice Bellissimo Questo colpo Mi è piaciuto Davvero tanto Uccidiamo Quest'ultimo Ragazzi Oh non è l'ultimo Non lo so Perfetto Ottimo Uh ragazzi C'era questo qui Che non l'avevo visto Minimamente L'abbiamo ucciso Cerchiamo di Non commettere Altri errori Ce n'è Soltanto Un altro Aia Stavo ricaricando Peccato Questi errori Non li dobbiamo fare Ottimo Ragazzi Li abbiamo uccisi tutti Perfetto 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 Liberi Quindi ragazzi Cerchiamo di Liberare il nostro amico Amaru Portiamolo Al In una zona Non Nemica Quindi alleata E lo dobbiamo scortare Ok L'obiettivo è a 3 km 1 C'è una cassa C'è una cassa rifornimenti Vediamo ragazzi Di prendere qualcosa Quindi sempre comunicazioni Dovrebbero essere Perché la stessa cassa Comunicazioni più 50% Ok ragazzi Dovrebbe poter Sì Dovrei poter utilizzare Questo elicottero E posso utilizzarlo Elicottero Tutorial Ragazzi Sì E un po' come Battlefield RT per accelerare Quindi per Alzarci di quota LT per Abbassarci di quota E dovremmo Con gli analogici Diciamo Abbassarci col muso E Abbassarci con la coda Per rallentare E Accelerare L'elicottero Ok ragazzi Dovremo raggiungere Abbastanza In fretta Con l'elicottero Questa posizione Ecco i comandi Vedo che sono Un po' scomodi Dell'elicottero Però Diciamo E guidabile Sì I comandi Sono tipo Battlefield Ma E Diciamo La manovrabilità Di questo elicottero E tutto Tranne che Battlefield È molto Lento Non si alza Per niente E dai Forza Deve un po' Di più Di potenza Ok 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 Superiamo questa montagna Poi Potremmo dare Potremmo abbassare Il muso Dell'elicottero E andare Molto molto Più veloce Ok ci troviamo Già 2 km 1 Quindi ragazzi Dovremmo Portare Amaru In questa posizione Che presumo Sia Una posizione Alleata Una sorta Di quartier Generale Forse Oddio Santissimo Che brutti Comandi Sembra che Precipito Da un momento All'altro Ma non è così L'elicottero Si comporta In maniera Un po' Strana Quindi ragazzi Ci troviamo Già a 1 km 1 Ci siamo Sull'obiettivo Portiamo Amaru In questa posizione Quindi Detto Presumo Che sia Alleata E sarebbe Un po' Stupido Prendere Amaru Da Diciamo Da una zona nemica E portarlo in un'altra zona nemica Ok Se non siamo completamente deficienti Qui ci dovrebbero essere Degli alleati Pronti Ad Aspettare Il nostro Arrivo E il nostro Atterraggio Con questo fantastico Elicottero Una pista D'atterraggio Migliore Ovvero Senza pietre Non la potevo trovare Quindi vabbè Atterraggio molto morbido Ci siamo Anche con gli elicotteri Meglio 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 Ok 20 metri Al A checkpoint Vediamo di aprire Questa porta Che cosa Ci Mostrerà Ok Amici Ovviamente Ok Santa Blanca Vengono nominate Ancora Va bene ragazzi Io salto Salto questa parte Perché è abbastanza Noiosa Non me ne frega niente Della storia La vedremo col passare del tempo Non ci spoileriamo niente Vediamo un po' Di capircela A noi Questa storia Ok quindi ragazzi Primo checkpoint Forse la Missione completata Quindi Primo checkpoint Portato a termine Prendiamo delle munizioni E vediamo un po' Che cosa fare Allora Vediamo di prendere Questi oggetti Che si trovano Qui dentro E potremmo Per me Oh ragazzi Che bella cosa Arma ottenuta Fucile di precisione M40 A5 Beh Fantastico Io direi ragazzi Fucile da cecchino Già Una cosa che mi piace Assolutamente Tanto 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 Ok Tutorial armi Quindi ci Fa un po' Vedere Dovremmo andare in dotazioni Ma Ci penseremo Nel prossimo episodio Secondo me Quindi ragazzi Vabbè Lasciamo finire Di parlare questo Perché parla Sopra la mia voce E vabbè Quindi ragazzi Hanno finito di parlare Meno male C'è questo video disponibile Lo vediamo nel prossimo episodio Quindi ragazzi Io vi invito Soltanto A lasciare un pollice in su Se vi è piaciuto il video Come sempre Mi date tanto tanto supporto E alla fine Lasciare uno è pur sempre gratuito Io vi invito ad iscrivervi Al mio canale Se lo avete già fatto Per non perdervi altri video Ragazzi Schiacciate la campanina Vicino alla voce degli iscritti Per tenervi Sempre sempre aggiornati Sul mio canale Ma si possono guidare le moto O sbaglio Ma no Ma fantastico Fantastico Vabbè ragazzi Vi stavo dicendo Inoltre di Seguirmi Sulle varie pagine Facebook Instagram Che vi lascerò Come sempre Qui sotto in descrizione Quindi ragazzi Lasciatemi anche un commento Per farvi sapere Se vi piace questo gioco Se dovrò Se volete Che vi porti Gli altri gameplay Quindi fare una miniserie E completare insieme La campagna In difficoltà estrema Ve lo ricordo Quindi ragazzi Nemici cazzutissimi Quindi dopo Questi bug Assolutamente Normalissimi Ragazzi Noi ci salutiamo E ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Di bella Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti